Dopo le denunce giornalistiche sul rincaro dei prezzi dei biglietti per tornare in Sicilia, con costi oltre 600 euro andato in ritorno, la proposta del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri sulle tariffe sociali per quattro categorie sui voli diretti nella penisola è stata approvata dalla Commissione Trasporti nel Senato. Una manovra innovativa che prevede sconti del 30% per studenti fuorisede, disabili con 104, lavoratori con reddito inferiore a 20.000 euro l'anno e malati con lo stesso reddito. Questo sarà solo un primo passo per raggiungere la continuità territoriale che anche l'Udc Italia vuole per ogni siciliano, ha commentato anche il senatore Udc Antonio Saccone. Invitiamo la regione Sicilia a partecipare ai bandi dell'Unione Europea, ma soprattutto vogliamo stimolare il governo italiano affinché dia le stesse opportunità ai cittadini siciliani. Con 120 milioni di euro lo Stato italiano aiuta i sardi, oggi finalmente bisogna aiutare anche i cittadini siciliani. E questa battaglia la faremo sia a livello dell'Udc Sicilia, ma anche a livello nazionale. Intanto il governo musumeci tende una mano agli studenti siciliani al nord che rischiano di non poter rientrare a casa per il periodo natalizia a causa delle proibitive tariffe aeree. Attraverso l'azienda siciliana Trasporti saranno infatti messi a disposizione fino a 8 pullman, a un costo simbolico per viaggiatore che va dai 10 ai 30 euro. Il servizio che inizia a Milano e prevede una sosta a Roma e una a Napoli sarà offerto dal 20 al 23 dicembre, dal 5 al 7 gennaio. Le prenotazioni si ricevono direttamente all'Ast. Nei prossimi giorni tutti i dettagli sui siti ufficiali della regione e dell'azienda siciliana Trasporti.